Tutta l'informazione sul mondo della voce è su Voci.fm Partner Voxil Voci Gola, dalla natura, un aiuto per la tua voce, voxil.it Su Voci.fm bentornato a Giulio Gaudiano, hai fatto buone vacanze, mi stavi dicendo prima che ti sei rilassato e si torna a lavoro, fine eh, fine dei giochi Giulio È stata una bellissima estate anche perché siamo tutti impegnati nell'organizzazione del Festival del Podcasting 2023 che sarà il 30 settembre a Milano, quindi è stata un'estate all'insegna del podcasting Bene, come tutto deve essere perché insomma ormai per noi almeno, per te in particolare, per voi tutto gira lì Allora parliamo subito dell'appuntamento, del nuovo appuntamento mensile, quello di mercoledì 13 settembre sempre a Villa Torloni alla casa del podcast Sempre con il supporto, ci fa molto piacere, di Voci.fm, la partnership di Voxil Voce Gola Allora questa volta trattate un tema molto discusso, più che attuale, no? Che si chiama intelligenza artificiale, ovviamente il rapporto con il podcast Quindi terrai tu una masterclass, podcast e intelligenza artificiale e non lo so, come si combinano queste due cose, come l'uno può influenzare l'altro? Diciamo che l'intelligenza artificiale è il nuovo trend, come c'è stato prima internet, poi lo smartphone, poi tutto quel mondo dei contenuti digitali Ci sono ogni tanto delle novità che trasformano non solo lo specifico nel quale vanno a operare ma un pochino tutta la società, trasformano le abitudini delle persone Ecco, l'intelligenza artificiale è il nuovo trend e alcuni hanno molta paura di questo nuovo trend, tant'è che negli Stati Uniti, per dire siamo nei giorni del festival della mostra del cinema di Venezia Ci sono scioperi degli attori, degli sceneggiatori perché dicono cosa sarà il cinema con l'arrivo dell'intelligenza artificiale Bene, noi nel mondo del podcasting vogliamo affrontare l'intelligenza artificiale in campo aperto Con più serenità diciamo Con più serenità E' da girarci intorno Cercando di avere un approccio consapevole, quindi conoscerla presto, subito, capire come funziona E capire in che modo può cambiare in meglio la routine quotidiana di chi fa podcast Ecco, come può cambiarla in meglio? Io lo so che ci sarà una masterclass e quindi tu dici se vi dico tutto adesso poi che ci venite a fare a Villa Torloni alla casa del podcast Però insomma ecco siamo molto curiosi perché non solo sono insorti gli attori hollywoodiani, sono insorti anche poco tempo fa i doppiatori italiani Perché anche lì insomma c'è un bel rischio, no? Visto che si parlava di doppiaggio fatto con l'intelligenza artificiale Dice ecco non solo noi andiamo tutti a casa ma non ci saranno più le emozioni che soltanto una voce umana che arriva da un essere umano può trasmettere, no? Quindi in questo caso ecco è con il podcast che succede? Che la voce del podcast può essere sostituita da quella dell'intelligenza artificiale oppure parliamo di tutt'altro? C'è un podcaster che si chiama Federico Favot che insegna il prompt design cioè come dare istruzioni per utilizzare l'intelligenza artificiale E' una frase che mi piace moltissimo e dice non sarà l'intelligenza artificiale a rubarti il lavoro ma qualcuno che sa utilizzare l'intelligenza artificiale meglio di te E qui in questo sta un po' anche la chiave della nostra masterclass cioè noi non vogliamo imparare come l'intelligenza artificiale ci andrà a sostituire come podcaster, come speaker, come creatori di contenuti Ma vogliamo comprendere come utilizzare l'intelligenza artificiale per far smazzare all'intelligenza artificiale tutte le cose che non sono ciò che ci piace del fare podcast E fare noi e meglio con più tempo a disposizione in maniera più dedicata e strategica la parte del podcast che ci piace Allora ti do qualche esempio concreto perché mi hai detto ma come si utilizza l'intelligenza artificiale Io potrei utilizzare l'intelligenza artificiale in quella fase in cui preparo il mio contenuto in cui scrivo il mio script Posso per esempio avere un lungo documento oppure delle pagine web che voglio leggere ma che posso far sintetizzare all'intelligenza artificiale come chat GPT Per poi avere un estratto diciamo una scrematura quindi invece di perdere 3-4 ore a leggere, leggere, leggere Posso avere già un estratto, un riassunto per poi utilizzare quei contenuti come materiale del quale andrò a parlare nel mio podcast Posso utilizzare l'intelligenza artificiale per schematizzare un lungo discorso, un testo che ho scritto In modo da preparare al volo una sezione di takeaways, quindi di concetti chiave che voglio mettere alla fine della mia puntata Quindi io faccio la mia puntata e poi gli dico senti vediamo se estrai tu da un lungo parlato quelli che sono i concetti chiave Poi posso utilizzarla nella fase per esempio di creazione della copertina Perché esistono intelligenze artificiali che possono generare immagini, immagini che essendo originali non sono protette da copyright E quindi posso avere una copertina come lo stesso creatore del podcasting Adam Carey consiglia Una copertina diversa per ogni puntata, ogni volta originale, ogni volta come un quadro d'autore Quanto dovrei pagare un grafico per farmi... anzi non è una questione di soldi, è proprio una questione di tempo Nella produzione di podcast sarebbe difficile creare ogni volta una copertina differente creando questo gioco di rimandi visuali con i miei ascoltatori E invece lo posso fare O ancora nel montaggio esistono dei programmi con intelligenze artificiali all'interno Che mi consentono, se non sono bravo a fare montaggio e editing con i programmi classici Mi consentono di tagliare e montare la mia puntata come se correggessi un testo su Word Quindi di togliere magari le parole, gli intercalari o gli errori oppure determinate parole all'interno del mio podcast Cancellandole dal testo e facendo generare un audio senza quella parola dal programma che utilizza l'intelligenza artificiale Questi sono alcuni degli esempi che faremo, che spiegheremo durante la masterclass Sicuramente al centro della masterclass ci sarà l'autore, il podcaster, lo speaker e non la tecnologia Ecco, quindi mi sembra di capire in sintesi quello che poi dicono i, passami il termine, i difensori Insomma, dell'intelligenza artificiale che bisogna usarla appunto come strumento Da quello che mi hai detto tu, insomma, gli facciamo fare il lavoro sporco E noi ci prendiamo, diciamo, risparmiamo molto tempo, molto più tempo e dedichiamo appunto più la nostra creatività al nostro lavoro Ma perché si ha così paura dell'intelligenza artificiale? Un po' come era successo con internet, no? Ecco, esatto, non sono spariti i negozi fisici quando è arrivato l'e-commerce Non è sparita la radio quando è arrivata la televisione Non sono spariti i libri quando sono arrivati gli e-book Ci sono delle tecnologie che si presentano come una minaccia allo status quo Solamente se le conosciamo poco Chi è che invece può utilizzare in maniera virtuosa l'intelligenza artificiale o la nuova tecnologia di turno? Chi la conosce? Chi si mette lì anche con umiltà Senza dire, no, se è sempre fatto così, no, questa tecnologia mi minaccia Ci mettiamo lì aperti, anche tra podcast e tra persone che lavorano in questo settore e amano i podcast A sperimentare, a giocare, a esplorare le possibilità offerte Per poi poter, una volta che siamo consapevoli, scegliere in maniera consapevole se utilizzarlo oppure no Io personalmente ti riporto un caso concreto Mi sono trovato proprio subito prima di andare in vacanza A dover inviare una proposta per un progetto di un podcast Avevo sintetizzato in poche righe l'idea di questo podcast Ma mi veniva richiesto un progetto più lungo Che riempisse delle pagine Perché? Perché chi doveva analizzarlo, chi doveva valutarlo Aveva bisogno di un progetto strutturato Quindi ho preso la mia idea Io ci ho messo il contenuto E l'ho data in pasto all'intelligenza artificiale Perché gli desse una forma Gli ha dato una forma in 8 secondi Mentre portavo mia figlia dal dentista Copia e incolla sull'email Il mio destinatario ha detto Perfetto, questo era quello di cui avevo bisogno Quindi nella distinzione tra il contenuto e la forma Noi possiamo utilizzare veramente l'intelligenza artificiale Come un piccolo assistente di studio Che si smazza il lavoro sporco Se lo conosciamo possiamo usarlo in maniera consapevole Senza averne paura Quindi possiamo dire insomma che almeno secondo te Secondo quello che ci hai detto In alcuni casi ovviamente controllati E' infondata questa paura Sia dei doppiatori sia degli attori Che l'intelligenza artificiale possa portare via loro il lavoro Parte del lavoro comunque no La parte creativa, umana Si parlava appunto della voce nel doppiaggio E quindi non tocca in questo caso Cioè secondo te non toccheresti mai in questo caso Non useresti mai l'intelligenza artificiale Per sostituire la voce di un podcaster Io ho sperimentato quella sensazione di brivile Quella sensazione di inquietudine Che si ha quando l'intelligenza artificiale Utilizza la tua stessa voce Per farti dire delle parole che tu non hai mai detto Uno dei software che durante la masterclass alla casa del podcast Ti permette di scrivere delle parole E l'intelligenza artificiale campiona Analizza la tua voce E crea quel parlato Senza che tu abbia mai pronunciato quelle parole E quando tu senti la tua voce che dice delle parole Dici oddio ma dove andremo a finire Però il cuore di tutto questo È il fatto che la creatività Sta sempre un passo avanti Quando viene inserita una tecnologia Che fa qualcosa che facevano prima gli esseri umani Gli esseri umani evolvono E fanno qualcosa di diverso Che la macchina non può fare Allora secondo me di positivo Cioè che la creatività Incontrando delle difficoltà Si sviluppa ulteriormente Cioè gli attori, i doppiatori, i podcaster Se l'intelligenza artificiale fa quello che loro già fanno oggi Potranno fare cose nuove Cose migliori Cose che non possono essere fatte dalle macchine E in questo io vedo un arricchimento Vedo una vera crescita che porta all'evoluzione Anche della professionalità Però non mi hai risposto Usaresti mai l'intelligenza artificiale Per sostituire la voce di un podcaster? La utilizzerei Sì, la utilizzerei per sostituire la voce di un podcaster Per esempio se mi accorgo Mentre sto montando la puntata che devo consegnare Che ti manca un pezzo Mi manca un pezzo Perché non farlo? Perché poi mi dimenti Ma devo essere io a scegliere Quello che vorrei è sempre tenere il controllo Della scelta Se farlo o non farlo Ecco questo direi che è la parola chiave Il controllo Controllarla Non lasciarla Sai come i tanti film, no? Di fantascienza Così che poi diventano Insomma diventa pericolosa per l'intera umanità Perfetto Ovviamente ci sarà sempre la prima parte Quella della mattinata Anche mercoledì 13 settembre In cui terrete invece Darete sempre dei consigli E delle istruzioni Per i podcaster Aspiranti ed emergenti Diciamo, no? Esatto Come ogni mese Alla casa del podcast L'associazione italiana podcasting Ha un doppio focus Il primo è su coloro Che sono aspiranti podcaster O si stanno avvicinando a questo mondo Per la prima volta Quindi la mattina C'è un corso intensivo Per creare podcast Partendo da zero Poi c'è il pranzo Che ci permette anche di conoscerci E di creare connessioni Tra quelli che sono Già podcaster E quelli che vogliono diventarlo E poi il pomeriggio La masterclass Ci consente Considerando Che è anche stato adottato Questo evento Dalla Rome Future Week Ed è nella cornice Del festival del podcasting Perché è un tema Che interessa Tanti settori diversi Nel pomeriggio Ci sarà la masterclass D'approfondimento Dove lavoreremo Con le mani in pasta È dedicato naturalmente A chi ha una conoscenza Un pochino più avanzata Del podcasting Lavoreremo con le mani in pasta Per capire Come utilizzare L'intelligenza artificiale Nella quotidiana pratica Del podcasting Benissimo Allora Grazie di nuovo A Giulio Gaudiano Ci vediamo mercoledì 13 settembre Alla casa del podcast A Roma Villa Torlonia Non vi sbagliate Perché poi andremo anche a Milano Ma poi ne parleremo più avanti E grazie Speriamo che questa Intelligenza artificiale Possa esserci utile Piuttosto che Darci fastidio Come dire Io lascio a disposizione Il link per iscriversi E prenotarsi Un evento Ricordiamolo sempre Completamente gratuito È necessario La prenotazione E invito anche A sbricarsi Perché Dato il tema Stiamo praticamente Andando sold out Ci sono pochissimi posti Rimasti disponibili Quindi c'è il link Per prenotarsi E ci vediamo Alla casa del podcast Il 13 settembre Perfetto Grazie Giulio Buon lavoro Tutta l'informazione Sul mondo della voce È su voci.fm Partner Voxil Voci Gola Dalla natura Un aiuto per la tua voce Voxil.it Grazie a tutti Grazie a tutti